Uno sguardo particolare è quello che il comune di Torre Santa Susanna rivolge verso gli anziani. L'amministrazione comunale ha già attivato vari servizi, tra cui quello di pulizia e cucina a domicilio degli anziani soli. Sabato scorso, presso la sede del Centro Hauser, si è tenuta l'inaugurazione di un nuovo servizio sociale, denominato Filo d'Argento, il telefono amico al servizio degli anziani, volto a contrastare la solitudine e l'emarginazione dei protagonisti della terza età. Il Filo d'Argento si muoverà in sinergia tra Centro Hauser e i servizi sociali, perché chiaramente ci sono degli assistenti sociali che si interessano di questa problematica. E dunque saranno loro il punto di riferimento per l'associazione, perché tramite loro riusciremo a capire quando l'anziano sta magari andando a isolarsi, sta tentando magari, non lo so, di chiudere magari il suo percorso stando tra le mure domestiche. Questo dell'associazione Hauser ben venga perché attraverso altri anziani, che sono chiaramente stimolati da varie iniziative che il Centro mette a disposizione, porterà, ecco, l'anziano che sta vivendo un particolare disagio, porterà l'anziano attraverso un pulmino attrezzato all'occorrenza all'interno di questa associazione. Questa è un'iniziativa veramente, dico, lodevole, un'iniziativa di cui io ne sono fiero sicuramente come amministratore locale. Vorrei lanciare un messaggio, se mi è possibile, attraverso la vostra emittenza televisiva, destinateli con un po' di tempo libero a favore di un'associazione di volontariato. Il Filo d'Argento offre, proprio dice il nome, il telefono amico dell'anziano, dove attraverso una telefonata si può conversare, avere un rapporto telefonico di compagnia con l'anziano, ma anche offrire dei servizi, dei piccoli servizi naturalmente, di fare la spesa, oppure di andare a festeggiare il proprio compleanno a domicilio e altri piccoli servizi che naturalmente ogni anziano ritrova nei momenti ricreativi della propria vita. Durante la cerimonia sono stati inaugurati una stanza climatizzata con televisore a redi, una zona di vita d'emeroteca con raccolta di giornali e riviste e una postazione internet, dove gli anziani non solo potranno navigare, ma anche tramite un collegamento con webcam, dare gli auguri di Natale ai parenti e amici sparsi in Italia e nel mondo. Noi che stiamo tanto lontani dai figli, come io, tengo cinque figli in Germania, una stai a Roma e una stai nelle Marche, è una soddisfazione che ci vediamo da lontano. Noi apparteniamo all'Aussel, ma siamo volontari per aiutare tutte le persone anziane, se anche io sono anziana, comunque cerco di aiutare quelli che stanno peggio di me. La vecchiaia già è brutta da per sé, però se sono abbandonati è peggio.